Normalmente quando scrivo un video su YouTube ovviamente il focus principale è sui contenuti, sulla ricerca devono essere accurati e chiari, ma devo ammettere che una parte abbastanza importante del lavoro è scrivere i primi 30 secondi, questo perché è fondamentale riuscire a catturare l'attenzione dell'utente proprio in quei primi istanti perché lì deciderà se vale la pena guardare il video, è interessante, oppure meglio saltare al prossimo. Quando mi sono messo però a scrivere l'introduzione per questo video francamente non sapevo cosa dire, se non che questo appunto non so cosa dire perché ieri è successa una cosa secondo me epocale, clamorosa, capita veramente poche volte secondo me nella storia di un investitore di vedere eventi del genere, quindi io non farei altro che andare direttamente a vedere che cos'è successo, ossia NVIDIA. Ne abbiamo già parlato un mesetto fa, per chi proprio fosse digiuno di questa roba, NVIDIA. Che cos'è? NVIDIA è semplicemente una delle più grandi aziende che producono chip, quindi semiconduttori, e in particolar modo producono chip per l'industria dell'intelligenza artificiale, tra le varie cose, e quindi ad esempio i vari chat GPT di cui ormai si parla praticamente tutti i giorni. Ecco, questa è la descrizione che avrei fatto e che ho fatto un mese fa dell'azienda. Oggi questa descrizione è leggermente diversa perché non devo più dire è una delle più grandi aziende di chip, ma è una delle più grandi aziende e basta. Mentre il registro NVIDIA vale quasi mille miliardi di dollari, ed è al momento la sesta azienda più grande al mondo in termini di capitalizzazione di mercato. Secondo me questa roba è folle, ed è folle non perché è sopravvalutata, quelli sono tutti i discorsi che vediamo dopo, ma semplicemente perché fino a ieri, non sto scherzando, valeva molto meno. Infatti solamente in un giorno è cresciuta del 25%, aggiungendo 200 miliardi di capitalizzazione. In un giorno ragazzi, cioè non so se ci rendiamo conto, sono cose che non succedono tipo mai nella storia, quindi è veramente incredibile questa cosa. E adesso ovviamente noi parliamo bene. Comunque, altra piccola panoramica da NVIDIA. Dai minimi sta facendo il 240%, e anche prima di ieri moltissimi pensavano, ok, è super sopravvalutata, e addirittura magari va sciortata. Io stesso ho fatto un video un mese fa dove parlavo di questa cosa. Quindi, ritorno oggi a parlarne. Com'è la situazione NVIDIA al momento? Va sciortato il titolo? È incredibilmente sopravvalutata? È una bolla? Oppure nessuno sta capendo niente? Non è una bolla in realtà? Magari sarebbe addirittura da comprare ai livelli attuali? Quindi, direi che non possiamo fare altro che iniziare a parlarne. E oggi niente intro. Come avete visto, non c'è montaggio, semplicemente perché voglio far uscire il video il prima possibile. Infatti, piccola premessa, mi vedrete ogni tanto magari prendere qualche tempo in più, prendere così, qualche esitazione. È normale, ogni tanto leggerò di qua, non vi preoccupate. Allora, come sempre io sono Pietro, iniziamo a parlare di NVIDIA. Il primo punto che voglio toccare è proprio cos'è successo ieri. Infatti, ieri sono usciti i risultati trimestrali che le aziende pubblicano regolarmente, appunto, ogni trimestre. E, è inutile dire che NVIDIA ha battuto le aspettative, come potete facilmente immaginare, ma le ha battute parecchio. Partiamo dalle aspettative per questo trimestre appena concluso. Ha battuto le aspettative sull'utile operazione di 1,09 contro gli 0,92. Quindi, comunque, una buona sorpresa, positiva. Il fatturato, anche questo, battuto in positivo. 7,10 miliardi contro 6,52 miliardi. Ricordiamo che il fatturato è in calo rispetto al trimestre di un anno fa, dove era stato di 8,2 miliardi. Ma questo principalmente per il comparto schede video. Infatti, altre informazioni utili, secondo me, sono che la divisione Data Center, quindi quella dove si parla di intelligenza artificiale, per intenderci, è cresciuta del 18% rispetto al trimestre scorso e del 14% rispetto a un anno fa. Però, questa è una buona trimestrale, sicuramente, ma davvero può dare 200 miliardi in un giorno a un titolo come NVIDIA? Ovviamente no, infatti c'è dell'altro. E per capire come mai è esploso così tanto, dobbiamo capire che cosa ha detto il management, non tanto sul trimestre appena concluso, quanto su quello che verrà, ossia il secondo trimestre del 2023. Che loro, tra l'altro, chiamano 2024, ma vabbè, a parte queste cose. Infatti, prima di ieri, gli analisti per il prossimo trimestre si aspettavano un fatturato di circa 7 miliardi. Quindi, peccato che NVIDIA sia arrivata a dire che se mi aspettano invece 11, che è una differenza gigantesca, e questo ha sbaragliato completamente qualsiasi tipo di analisi che era stata fatta prima, perché, semplicemente, bisogna andare a rivedere tutti i target al rialzo. Prima di fare questo video, guardate un pochino i target di alcuni analisti, addirittura ce ne sono alcuni che la danno a 600 dollari per azione. Giusto per farvi capire quanto le valutazioni sono state riviste al rialzo, perché, in effetti, è una revisione al rialzo molto grande. Cioè, io non sono abituato a vederne così grandi. In particolar modo, questa crescita nel secondo trimestre, secondo loro, arriverà dalla domanda per chip di intelligenza artificiale, in particolare dagli H100, che sarebbero un po' i successori degli A100, che sono quelli che, al momento, vanno di più in assoluto. Questo è quello che è successo ieri, in brevissimo. Direi che, sostanzialmente, non c'è altro. Possiamo fermarci qui. Quindi, Nvidia è in una bolla? Questa è la domanda, ovviamente, che si fanno tutti, perché parliamo di un'azienda che, infatti, a inizio anno valeva molto meno e oggi siamo quasi a mille miliardi. È una bolla? Come ci si comporta? Come si fa a capire se è una bolla? Beh, ovviamente, possiamo osservare alcuni segnali. Per esempio, il fatto che Nvidia ha fatto più 200 miliardi in un giorno. Questa cosa non accade normalmente con aziende di questo calibro, nel senso che, facciamo questa piccola parentesi, quando parliamo di aziende da 2 o 3 miliardi, ecco che effettivamente lì una piccola differenza può cambiare un mercato, magari molto grande, e quindi ci sta che un'azienda di 3 miliardi faccia più un miliardo in un giorno. Sto esagerando, però parliamo di comunque cose molto più a dimensione umana. Ma che un'azienda che ieri valeva 650 miliardi, oggi valga 200 miliardi in più, 240 miliardi in più, beh, è comunque un segnale molto, molto sospetto, però questo da solo ovviamente non è sufficiente. Potrebbe essere semplicemente un trimestre estremamente positivo. Quindi andiamo avanti. Secondo elemento, l'hype. Le grandissime aspettative da parte di tutti, il fatto che si discuta così tanto di intelligenza artificiale, di questo ne parlavo nello scorso video. Al momento, intelligenza artificiale, chat GPT, ne parlano tutti. Addetti ai lavori, non addetti ai lavori, perché c'è tutta la tematica, eh, ma andrà a distruggere i posti di lavoro, roba del genere. Insomma, è un argomento sulla bocca di tutti. Esattamente come spesso accade, nel senso che capita molte volte che quell'argomento lì, che prima è di nicchia, magari un pochino più dei nerd, diventi di dominio pubblico. È successo, ad esempio, per gli NFT. Tutti a un certo punto parlavano di queste scimmiette, nessuno ci capiva niente. È successo con le criptovalute, è successo il momento autoelettriche. Tutti sparlavano dell'elettrico. Insomma, accade molte volte, in realtà, nel corso della storia. E accade con cose che, magari dopo dieci anni, si riveleranno essere ancora importanti. E accade anche con cose che, in realtà, poi andranno a sparire. Però il solo fatto che in questo momento tutti stiano parlando di intelligenza artificiale, è un altro segnale che mi fa dire, ok, attenzione, perché in questo titolo ci sono delle aspettative gigantesche, non solo da parte degli analisti, ma da parte di tutti, anche pubblico retail. Altro elemento, gli acquisti degli insider, ossia gli insider sono praticamente tutte quelle figure che lavorano nell'azienda. Quindi magari parliamo di manager, di manager di medio livello, e negli Stati Uniti le transazioni che questi manager fanno devono essere segnalate pubblicamente. Quindi noi sappiamo loro cosa stanno facendo. C'è un detto, che mi piace citare, quando si parla di questo tipo di operazioni, che è, ci sono mille motivi per vendere un titolo, ma ce n'è solo uno per comprare. Cerco di spiegarlo in brevissimo. Un manager, ad esempio, potrebbe aver bisogno di liquidità in quel momento, potrebbe essere troppo esposto al titolo, e quindi magari decide di ridurre le posizioni. E questo è assolutamente normale. Quindi ogni volta che vedete degli insider che vendono il titolo, non è detto che lo stiano facendo perché pensano che scende. Però, quando vedete che tanti insider stanno comprando, evidentemente vuol dire che il sistema azienda si aspetta che il titolo salga. Dall'inizio del 2023 non c'è stato un singolo acquisto da parte degli insider, solamente vendite, che ripeto, non sono da considerare secondo me, però è proprio la mancanza degli acquisti. E gli insider hanno delle informazioni prima di tutti. Ad esempio, sanno che il trimestre gli è andato molto bene prima che i risultati siano pubblici. Sanno che stanno avendo un sacco di domanda per questo H100, il nuovo chip. Eppure nessuno compra. Secondo me è strana come cosa, nel senso che, beh, sono comunque risultati incredibili, hanno alzato la guidance tantissimo, ma nessuno compra. È una cosa che sicuramente è da tenere in considerazione. Quarto punto, le aspettative, ossia in questo momento, come vi ho detto, le aspettative per il trimestre prossimo sono state riviste di molto al rialzo, ma non stiamo parlando solamente del prossimo trimestre, ma anche dei prossimi anni. Prima mi sono guardato le stime degli analisti e per intenderci, già prima si aspettavano tanto, ma dopo ieri, lasciamo perdere, ci si aspetta che gli utili nel 2026 saranno di 12 dollari per azione. Per intenderci, nel 2023 potremmo finire sui 3 dollari per azione, quindi parliamo di un per quattro sugli utili nel giro di quanto? Tre anni? È comunque un'aspettativa molto ottimistica, che se venisse realizzata, beh, sarebbe veramente fantastico. Se non viene realizzata, è un problema. Ma quindi, arrivando a tutti questi elementi, a voi ricorda qualcosa questa situazione attuale? Perché secondo me sì, e ci sono tanti paragoni che si possono fare, ad esempio con la bolla .com. Attenzione a non fraintendermi, non voglio dire che .com uguale tutti i titoli sono sopravvalutati, tutti gli indici sono sopravvalutati. Semplicemente seguitemi su questo discorso. Durante il periodo degli anni 2000 c'era, c'è stato l'avvento di internet, e quindi la tecnologia di cui tutti parlavano era internet. .com appunto, esattamente come oggi si fa la gara a dire più volte intelligenza artificiale nelle conference call per far vedere che tua azienda sta investendo in questo settore, all'epoca tutti citavano la parola internet nelle trimestrali. Tutte le aziende dovevano far vedere che erano sulla cresta dell'onda per quanto riguarda internet. E tutti, ripeto, tutti volevano esserci in questo settore. E, beh, oggi internet è qualcosa di molto concreto. Questo video lo state vedendo perché internet ha funzionato. Quindi dove voglio arrivare? Che comunque questo non cambia. Nel senso che io sono pienamente convinto che Nvidia sia una grande azienda. Esattamente come sono convinto che nel 2000 ci fossero moltissime grandi aziende, che tra l'altro sono sopravvissute ad oggi. Ad esempio Microsoft. Prendiamone una proprio a caso. Microsoft. Nel 2000 Microsoft com'era messa? Beh, ad esempio guardiamo i multipli che Microsoft era arrivato a avere nel 2000. Parliamo di un enterprise value su fatturato di 28, che è tantino. Nel 2000 era arrivato a avere questo multiplo. Oppure enterprise value su EBITDA era arrivato a valere 50. Enterprise value su utile operativo 56. Uno potrebbe dire, vabbè, ok, però comunque Microsoft alla fine è cresciuta tantissimo. Oggi la Microsoft del 2023 eclissa la Microsoft del 2000. Quindi comunque chi l'ha comprata nel 2000 oggi si ritrova con un'azienda che vale di più. Certo, assolutamente. E stiamo parlando comunque di un caso specifico. Poi ci sono tutte le altre. Ma prendiamo una delle migliori aziende ad oggi. Se io avessi comprato Microsoft al top della bolla dot com, proprio ai massimi, sapete una cosa? Sapete quanto avrei dovuto aspettare, contando anche i dividendi, per tornare, non dico in mega profit, ma in pari? 14 anni. Non sto scherzando, ho controllato tipo 12 volte. 14 anni. E questo semplicemente perché? Perché Microsoft all'epoca non era una grande azienda? No. Perché Microsoft ha avuto un periodo dove è stata stagnante, dove i bilanci hanno fatto schifo? No. Semplicemente per i multipli. Perché erano talmente alti che sgonfiandosi, semplicemente hanno creato questa situazione. Per cui l'azienda, a livello di multipli, è rimasta poi normale. E il sottostante, il fondamentale, è cresciuto, sì, piano piano, ovviamente. La stessa cosa possiamo dirla adesso con NVIDIA. Infatti al momento i multipli di NVIDIA, fatemi ritrovare, ecco sì. Sono estremamente simili. Parliamo di un capitalizzazione su fatturato di 29, capitalizzazione su EBITDA di 100, aspettate, 120. clienti, capitalizzazione su utile di 160. Insomma, sono multipli veramente fuori di testa. Che se uno ci ragiona dice, ok, se anche l'utile raddoppia l'anno prossimo, se anche triplica. Comunque stiamo parlando di multipli quasi da vola.com. Per cui la domanda che dobbiamo farci è, ok, magari NVIDIA tra vent'anni sarà la nuova Microsoft, la top azienda incredibile sulla cresta dell'onda di tutto. Però comunque comprandolo oggi potrebbe essere un grande, un grande errore. E quindi vi volevo un attimo far riflettere su questa cosa perché secondo me è fondamentale. Tra l'altro io sono stato molto buono in questo caso perché vi ho preso un'azienda che secondo me non è esattamente paragonabile a NVIDIA. E cerco di spiegarvi questo punto che potrebbe sembrare un po' strano, un po' controintuitivo, ma seguitemi perché è molto, molto importante. Ossia, la tecnologia del 2000, quella di cui tutti parlavano, quella di cui tutti volevano investire, era internet. Oggi è l'intelligenza artificiale. Di fatto nel 2000, così come oggi, c'erano delle aziende che creavano l'infrastruttura necessaria per poter far funzionare questa tecnologia. Quindi oggi sono ad esempio le varie NVIDIA, ma anche AMD, anche tantissime altre, che creano dei chip su cui tutte le intelligenze artificiali sono addestrate e girano, nel 2000 c'erano i produttori di infrastrutture, di sistemi che creavano appunto internet, contribuivano a crearlo e poi sulla base di internet sono nate altre aziende. Il paragone è un po' questo. Quindi capite che ha poco senso andare a prendere Microsoft, l'ho presa semplicemente per un discorso di Multipli. Facciamo un altro paragone con quella che all'epoca era probabilmente l'azienda di infrastrutture per internet, più discussa e più amata, almeno dal punto di vista degli investimenti del momento, ossia Cisco. Ora vi dico i Multipli che ha raggiunto Cisco nel 2000. A livello di prezzo su fatturato 36, prezzo su utile, su EBITDA di 120, prezzo su utile operativo di 160. Oh, non sto scherzando, cioè sembrano fatti apposta, ma sono gli stessi, giuro, di NVIDIA. E li ho presi, ho controllato di nuovo 30 volte. Altro piccolo dettaglio. Sapete comprando Cisco, proprio al top del 2000, quando ci è voluto per ritornare in pari? 22 anni. 22 anni. Perché? Semplicemente perché sì, internet è diventato qualcosa di importantissimo, ma la tecnologia che aveva Cisco, che era all'avanguardia, magari un po' meno all'avanguardia di quella che è oggi NVIDIA, poi è stata frutto di competizioni, ci sono stati altri cambiamenti imprevedibili di fatto. Quindi investire oggi tutto in un'azienda che crea infrastrutture, in un settore molto ciclico, con una forte componente tecnologica di avanguardia, secondo me è un gran rischio. Ripeto, non voglio che mi fraintendiate, secondo me NVIDIA è una grande azienda, perché comunque innovano molto, l'hanno dimostrato negli anni e continuano a farlo oggi. È un'azienda che viene gestita molto bene, ed è interessante, cioè funziona. A livello di bilanci non c'è niente da dire. Peccato che sia tutto un discorso un po' più ampio, cioè non dipende solamente da NVIDIA. NVIDIA può anche lavorare benissimo, ma poi se la domanda a un certo punto cala, il settore cresce un po' meno del previsto, NVIDIA prende il muro sui denti, non ci può fare assolutamente niente. Io sinceramente non ho rifatto le valutazioni su NVIDIA, alla luce di questa nuova trimestrale sarebbero ovviamente da rifare, ma vi posso dire a occhio, e sinceramente non è neanche importante, che secondo me è un'azienda che vale molto, molto meno. Arriviamo quindi al punto. Ok, diciamo pure che NVIDIA è una bolla. Usiamo questa parola. è da shortare, perché io un mese fa ho fatto un video dove credo di essere stato molto, molto chiaro. Il titolo era qualcosa tipo Perché voglio shortare NVIDIA? E raccontavo appunto tutta una serie di cose che oggi non ho voluto ripetere. E alla fine dicevo una cosa molto, molto semplice, ossia dicevo Ragazzi, per me NVIDIA non vale così, è un'azienda che secondo me vale meno, per cui mi aspetto che nel lungo periodo, medio magari, medio periodo, il prezzo scenda, ma non è shortabile. Perché? Perché il trend è quello lì. Quindi avevo dipinto uno scenario, ossia se rimbalza su questi livelli, bla bla bla, allora potrei pensarci. Così non è stato, e quindi niente, basta. Però vedo che molti in realtà si sono... No, molti no. Una parte si è persa questo discorso, o perché non è arrivata alla fine, o non lo so francamente. E la stessa cosa dico oggi in realtà, cioè la ripeto proprio uguale. Oggi NVIDIA per me è ancora più sopravvalutata di ieri, ovviamente. La shorterò per questo motivo? Dipende. Sicuramente dai livelli attuali, no, non ha nessun senso. Non ci sono segnali ribassisti. Io voglio aspettare un segnale ribassista. E al momento questo segnale non l'ho visto. Per cui, francamente, non consiglierei a nessuno di andare domani a shortare il titolo perché è salito tanto. Anzi, è proprio il contrario. In questo momento, se davvero pensate che il titolo sia in bolla, trattatelo come una bolla. E le bolle sono qualcosa da cui è meglio stare alla larga. Né cercare di cavalcarle, perché è molto molto pericoloso, figuriamoci cercare di shortarle, di prevedere quando andranno a scoppiare. Quindi io sinceramente non posso fare altro che in questo momento alzare le mani, guardare, stare a aspettare, e vedere quando NVIDIA effettivamente inizia a scendere. Fino ad allora, ripeto la stessa cosa che ho detto nello scorso video, io non faccio niente. Sto qua ad aspettare. E ragazzi, spero veramente che questo aggiornamento sia stato utile, anche perché, non lo so, mi sembrava già di essere stato chiaro nell'ultimo video, ma evidentemente no, non lo so, mi sarò spiegato male. Boh, vabbè, ok. Però se avete apprezzato questo aggiornamento, perdonatemi se non ho avuto tempo di fare nessun tipo di montaggio, ma per di riuscire a registrare questo video sono venuto dalla palestra qua, non mi sono neanche fatto la doccia, puzzo come un cavallo, meno male che non siete in questa stanza, però ci tenevo a farvi l'aggiornamento in giornata. Quindi spero abbiate apprezzato per questo motivo e soprattutto fatemi sapere voi cosa ne pensate di NVIDIA. Secondo me, beh, insomma, ve l'ho già detto quello che penso, però sono curioso anche di sapere cosa ne pensate voi. Quindi, per oggi è tutto, un saluto e alla prossima!